Questo evento è ormai alle porte, intanto vogliamo raccontare di che si tratta e qual è l'associazione che lo porta avanti. Associazione Corale Sinfonia da dieci anni organizza questa manifestazione nel periodo di novembre che si intitola Festa della Musica quando il suono diventa arte, in cui l'elemento della musica è un po' il collante di diverse forme artistiche. Quest'anno è la decima edizione, quindi abbiamo cercato di organizzare un anniversario in grande stile. La manifestazione si svolgerà il 18 novembre pomeriggio alle ore 17, ad ingresso libero e gratuito presso il Teatro Antè di Prato Vecchio. Abbiamo una rosa di ospiti molto importante, abbiamo la scrittrice Cinzia della Ciana, avremo ospite la pittrice Maria Bidini, poi i giovani talenti provenienti dalla scuola di musica Dima e dalla scuola di danza di Bibbiena, la piccola sinfonia che è il laboratorio vocale aperto ai bambini organizzato da Associazione Corale Sinfonia, quindi tante eccellenze ed un grande ospite d'eccezione che è l'attore e regista teatrale, cinematografico e televisivo Emanuele Barresi. A tutto questo quest'anno si aggiunge anche un premio dedicato al mondo della poesia. Sì, in realtà questa manifestazione è molto ricca, già da otto anni all'interno di questa manifestazione, noi abbiamo dedicato un premio speciale, esattamente una sinfonia per il domani con vari indirizzi. Già da due anni è stata dedicata la poesia, ma da quest'anno purtroppo in virtù della ricente scomparsa del nostro caro amico corista, ma soprattutto poeta Giovanni Guidi, il premio prenderà appunto il suo nome. Invitiamo proprio tutte le persone al di sotto dei 25 anni, ma anche over, a mandare una loro iscrizione, una loro poesia. I vincitori saranno ovviamente premiati nella sede, per cui il di sotto, al teatro. Ci saranno dei ricchi premi, anche in denaro, in buoni, ed è un'occasione veramente speciale per valorizzare non solo la poesia, ma anche il nostro territorio.